sclerantus fior secco margherita stringe al petto fiocco la sua coniglietta di casa mentre la accompagna verso la libertà essi oggi è un gran giorno la mamma e il papà di margherita hanno deciso di separarsi andranno ad abitare in città diverse in case di città e lei non potrà più tenere con sé fiocco abituata a scorrazzare in giardino mamma e papà l'hanno accompagnata in questo campo che hanno saputo è un terreno ideale per i conigli e sanno che ci sono tane e conigli selvatici fiocco appena posata a terra va avanti timidamente in esplorazione mentre margherita si siede in disparte ha detto che non tornerà alla macchina finché non sarà sicura che fiocco si trovi bene e quindi si siede senza fretta ad aspettare anche per lei è un momento importante le hanno detto che ormai è abbastanza grande per scegliere se vuole vivere col papà o con la mamma certo li vedrà comunque tutti e due ma uno dei due lo vedrà d'estate e l'altro sarà quello con cui passerà l'anno scolastico ha pianto tanto i giorni scorsi ma non c'è stato niente da fare non ci sono altre possibilità le hanno detto e lei ora deve scegliere le cade lo sguardo su una margherita chissà se il fiore di cui lei porta il nome l'aiuterà a scegliere e si mette a strapparne i petali uno ad uno papà mamma papà mamma ma mentre strappa un petalo dietro l'altro le sembra di strappare pezzetti del suo cuore delle cose belle che non potrà più avere di come la sera le mancherà il papà che le legge le storie in un caso o di come sentirà la mancanza delle mani della mamma che la pettinano nell'altro e presto la margherita non ancora finita cade giù per terra mentre margherita scuote la testa piangendo un po' laggiù poco lontano fiocco ha fatto amicizia con un coniglietto grigio che sembra voglia invitarla a seguirlo ma si ferma si volta guarda lei e poi torna indietro e poi a metà strada di nuovo si ferma muove il nasino si volta e ritorna verso il coniglietto e questo un paio di volte finché alla fine si ferma proprio nel mezzo del campo immobile come una statua margherita si sdraia pancia in giù nell'erba e il suo sguardo cade su una pianta strana che ha davanti e che prima non aveva notato da quanto è insignificante che fiore curioso senza petali o meglio con petali che sembrano foglie ma è un fiore quello ed ecco che come rispondendo alla sua domanda sente una voce che le parla nella testa sì certo che è un fiore è il mio fiore io sono lo spirito del fiore secco e se vuoi ti racconto la storia della mia pianta che tanto tempo fa ha dovuto affrontare una difficile scelta potrei chiamarla la storia della non scelta margherita troppo emozionata per parlare scuote la testa per dire che sì sì certo vuole sapere tanto più che anche lei ora non sa cosa scegliere quando la mia prima antenata stava per fiorire per la prima volta su questa terra madre natura le chiese di scegliere il colore dei suoi petali e le disse di scegliere tra rosa e giallo passavano i giorni e le notti e la piccola pianta schiacciata da tanta responsabilità appena decideva per il giallo si metteva a pensare a tutto l'amore che avrebbe potuto esprimere con dei bei fiori rosa mentre se poi decideva per il rosa subito rimpiangeva di non poter indossare l'allegria del giallo così arrivò il momento della fioritura e non aveva ancora deciso finché l'ultima notte nonostante le insistenze di madre natura disse che non voleva scegliere anche il non scegliere è una scelta le fu detto e così madre natura non solo la lasciò senza colori ma anche senza petali di pianta in pianta di generazione in generazione i fiorsecchi si disperavano ad ogni fioritura finché madre natura provò compassione e fece loro il dono dell'immaginazione e così noi fiorsecchi possiamo oggi immaginarci i petali che vogliamo del colore che vogliamo e siamo felici come lo è un raggio di luce bianca che attraversando un prisma proietta sul muro tutti i colori dell'arcobaleno che bella storia pensa margherita e che peccato che lei non possa chiedere a madre natura lo stesso regalo ancora lacrime le cadono dagli occhi e vanno proprio ad appoggiarsi sui fiori della piantina ecco che arriva fiocco ancora indecisa se andare o restare muove il nasino verso la pianta stupendosi di quegli odori mescolati il profumo del fiorsecco e l'odore delle lacrime di margherita che già altre volte ha consolato i giorni scorsi e mastica uno dei fiori della piantina incuriosita dalla strana miscela fiocco adesso vede le cose con occhi diversi c'è un nuovo mondo davanti a lei così aperto pieno di avventure e la tana dentro la quale è scomparso quel coniglietto grigio sembra invitarla all'esplorazione guarda margherita e vede una bambina che le sta donando tutto questo l'amore con cui le fa questo dono resterà sempre con fiocco e tornerà indietro a margherita moltiplicato per renderla felice a sua volta fiocco ha deciso di andare adesso ma prima avvicina il musino al viso di margherita ancora triste e come ha già fatto tante volte i giorni scorsi le dà qualche leccatina mista al succo dei fiori di fiorsecco che sta ancora masticando e dopo aver assaporato le sue dolci carezze saltella via felice incontro alla sua nuova vita margherita vede il fiocco bianco che è la coda della sua coniglietta scomparire dentro una tana e si sente strana le dispiace un po non vederla più ma allo stesso tempo è felice che abbia trovato una nuova famiglia e poi queste sensazioni mescolate di gioia e dispiacere vengono sommerse da un'onda di sicurezza che le allarga il cuore e la pancia è come se sapesse adesso che anche per lei c'è una vita nuova che le riserva cose belle e inaspettate e che qualsiasi sia la sua scelta tutto andrà per il meglio prende in mano un'altra margherita e comincia a staccarne i petali con la mamma e dentro la sua testa si formano idee di colazioni pigre e trucchi davanti allo specchio e un corpo morbido e profumato che la abbraccia con il papà e arrivano idee di vento nei capelli mentre parla con lui andando in bici e popcorn al cinema e solletico fino a piangere e così via petalo dopo petalo cose buone si aggiungono a cose buone e colori ai colori come per la piantina che una volta non sapeva scegliere grazie a tutti